Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi un video incredibile. CiaoGPT ha rilasciato i ChatGPT Canvas, ok? Siamo nella versione Plus, fate l'abbonamento, 22 dollari, anzi no, 20 dollari, 22 euro, una cavolata. Fatela perché sta diventando potentissimo questo strumento. Oggi vediamo con questa novità dei Canvas come è semplice, mi sento male scrivere. A tal punto è talmente semplice che io adesso ho questa sensazione che nel futuro le persone scriveranno così, ovvero CiaoGPT scrivi tu e poi faranno delle piccole modifiche. Adesso ti faccio vedere che cosa è successo. Le persone del futuro diranno, si stupiranno quando diranno ma non sai che c'è stato un'epoca in cui le persone scrivevano tutto loro? Davvero sì, io mi immagino questa conversazione. Davvero sì, non esisteva l'intelligenza artificiale. No, loro scrivevano loro, ma com'è possibile? Come facevano? Guardate. Allora, c'è GPT Plus, andiamo su ChatGPT Canvas, vi faccio vedere come funziona, ma vi faccio vedere come scrivere un libro in tre minuti. Guardate, cioè l'ho provato prima, ho scritto questo Guida Orto per Percipianti, guardate quanto è lungo. Lui poi ha fatto tutte le modifiche. Ora vabbè, da qui, vediamo se me lo apre qui come era prima. Esatto, vedete, si splitta. Cioè, non ho finito, perché io poi posso selezionare ogni singola parte e dirgli raddoppia, raddoppia, raddoppia. Procediamo con calma, iscriviti al canale. E se non mi conosci, sono Michele Maraglino, faccio business online dalla fine del 2016. Ho un business nella musica, quindi nella nicchia più sfigata, guadagno vendendo videocorsi, infoprodotti, quindi, e consulenza. E qui in questo canale, Michele Maraglino Business, condivido le mie esperienze. Iscriviti, guardati anche il corso gratis che trovi su corsogratis.michelemaraglino.com per approfondire la mia storia e capire come guadagnare anche tu, mettendo le tue competenze e trasformando le tue competenze in prodotti digitali e fare migliaia e migliaia di euro al mese. Corsogratis.michelemaraglino.com E guardati anche lezione.michelemaraglino.com che è sul dropshipping di servizi, perché io vendo anche servizi, ma non li svolgo io, ma li faccio fare su Fiverr e siccome sono bravo a vendere, li vendo al triplo e guadagno. Lezione.michelemaraglino.com se vuoi approfondire anche questo. Tutti i link sono in descrizione. Adesso partiamo a bomba. In descrizione ci sono anche i miei percorsi per chi vuole guadagnare con KDP, Amazon, fare il self-publishing e farsi scrivere i libri e pubblicarli. Ci sono tutti i corsi anche su YouTube, Cash Couch Channel. Tutti i link sono in descrizione. Fatevi seguire da me. C'è anche il protocollo business online dove faccio tutto io e poi andiamo a bomba il video. E scade il 15 ottobre, quell'offerta poi continua a salire il prezzo. Basta, andiamo. Mi sento male. Allora, che libro vogliamo scrivere? Scrivi, che poi può essere anche un articolo. Prendete questo esempio per articoli, post, social, addirittura ti mette l'emoticon. Mi sento male. Allora, scrivi. Scrivi un libro su come... Noi su Amazon pubblichiamo libri su come... Facciamo la prova su come investire in ETF. ETF e guadagnare in modo sicuro investendo in borsa. Io avevo scritto questo libro, perché ci sono dei tutorial anche in questo canale, con CiaGPT 4, ed era comunque più veloce del 3.5, ma guardate adesso con CiaGPT Canvas, guardate che succede. Ed ecco che lui inizia. Da una parte qui abbiamo, diciamo, la chat classica, dove lui ci dice ho scritto, ho fatto o non ho fatto. Dall'altra parte sta scrivendo. Questo è un esempio di come potrebbe iniziare il libro. Va bene. Allora, la novità sta qui, in questi pulsanti. Dove noi possiamo regolare la lunghezza. No, vabbè, con un cursore lo fai lunghissimo, ok, ma poi vediamo come utilizzarlo. Non voglio farlo. Con questo il livello di lettura, quindi, se vogliamo scrivere per... Se il nostro è un libro di scuola media superiore, di università, lui lo cambierà, vedete, cambia tutto. Quindi, perché nella scrittura noi magari vogliamo scrivere un libro per bambini, allora li mettiamo... Bambini. Lui qua continua a scrivere, ok? Il livello di scrittura è molto importante. Giù c'è la scuola materna, scuola media inferiore. Scuola media superiore, noi lo vogliamo scuola media superiore, questo libro sugli ETF, per principianti, che dite? Sì, dai, facciamolo per la scuola media superiore, per tutti. E lui cambia il tono. Investire in borsa può sembrare complicato e rischioso, specialmente per chi ha le prime armi, tuttavia con gli strumenti come gli ETF, è possibile investire nei mercati finanziari in modo semplice e sicuro. E lo ha fatto. Poi, abbiamo visto la funzione lunghezza, gli emoji le vediamo dopo. Facciamo suggerisci le modifiche. Lui, clicchiamo su questa funzione, suggerisci le modifiche, e quindi lui ci dà dei suggerimenti. Considera di iniziare con un aneddoto o un esempio per rendere l'introduzione più convigente. Allora dico, sì, certo, applica. E lui inizia a migliorare il testo, a proporre lui. Capite che noi non scriveremo più. Noi daremo dei comandi e scriverà lui, e lui ci dirà come migliorarlo. Qui ci dice, potrebbe essere utile spiegare brevemente cos'è un indice finanziario. Ma certo, te l'avrei detto io. Ragazzi, mi sento male. Scrivete nei commenti, voglio fare le magliette, mi sento male. Scrivete mi sento male se le comprereste. Qui, aggiungi un esempio di come la trasparenza degli ETF possa aiutare. Ma certo! Cioè, questo è un testo di altissimo livello, ragazzi. Poi, potreste aggiungere un esempio pratico di come funziona il dollar cost average? Ma certo, sapete, no? Acquistare a PAC il dollar cost average. Esce un libro devastante, raga! Cioè, io adesso questo me lo leggo, prima di andarlo a vendere. Sarebbe utile elencare brevemente alcuni degli ETF più riscosi come l'esempio? Per dare un livello? Certo! Boh, ma io veramente, adesso sto facendo il video, ma noi, guardate, potremmo fare un libro di qualità in pochissimo tempo. Ok, tutti i suggerimenti. Dopodiché, quello che possiamo fare qui, cambiare sezione per sezione, paragrafo per paragrafo. Se vado sul titolo, posso cliccare qui, rifai il titolo considerando che sarà per principianti. Ok? Sarà un libro per principianti. E lui? Mi cambia quella singola parte! Una guida facile per principianti. Introduzione. Adesso, ora dici, va, questo libro è troppo piccolo, no? Prima dovevamo fare l'indice, fargli sviluppare. Adesso noi qua, introduzione. Io gli scrivo. Triplica la lunghezza. Ok? Boom! Guardate qua. Guardate qua. Lui inizia e... Lo ha, diciamo, sì? Un triplicato. Capitolo 1. Questo qui. Triplica la lunghezza. Anche se forse funziona meglio con raddoppia. Però se la triplica... Tututututututututututututututututututututututututututututututututututura. guardate quanto è semplice fare questo pure triplica la lunghezza potremmo andare all'infinito sezioni di sezioni e diventa semplicissimo io mi sento male guardate il capitolo ma qua possiamo ancora allunga triplica la lunghezza ok poi magari potremmo per ogni singola sezione ora non sto leggendo quello che scrive però ragazzi è una roba, questo è un capitolo capitolo 4 noi possiamo andare qua, capitolo da qua conclusione anzi andiamo qui dici poi aggiungi mi sento male aggiungi capitolo 6 la magia da questo lato la conclusione slitta giù e mi ha fatto il capitolo 6 e io mi sento male ancora lo sta facendo quindi poi il capitolo 6 vado qua e gli dico triplica la lunghezza no vabbè da sentirsi veramente male lui lo fa più lungo e quindi cioè ma in pochissimi click io mi sento male poi perché ora io mi sto fissando con la lunghezza perché fare un libro cioè è più semplice vendere un libro di due, trecento pagine e quindi per marginare di più vatti a vedere i miei corsi io qui ora posso andare di nuovo sul livello di lunghezza e dirgli lunghezza massima e lui adesso me lo allungherà ancora di più ora facciamo conto che è pronto no vabbè è da paura guardate introduzione capitolo 1 credo infine mamma mia inoltre infine cioè sta diventando lunghissimo poi possiamo raddoppiare e triplicare tutte le parti farci adesso che più testo adesso che più testo è arrivato gli facciamo un'ultima ci facciamo dare gli ultimi suggerimenti no vabbè conclusione la conclusione vorrei che fosse qui fai triplica lunghezza vorrei più lungo lunghezza invio ok lui te lo allunga tatatatatatatatatata tu vabbè che bella conclusione adesso ok anche l'ultimo anche questo da questo raddoppia raddoppia lunghezza di quest'ultima parte pom 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 ppm va bene allora andiamo qui e suggerisci modifiche boom ora che lui ci ha diciamo aggiunto considera di rendere questa introduzione più confugente includendo un esempio reale vai ho una storia è andato un po' in tilt ah ecco poi fai quest'altro applica sta dicendo sempre ho raddoppiato ho raddoppiato fai applica sono andato oh qui sta applicando finalmente poi quindi aspetta che glielo riguarda qui abbiamo altre faccio applica ho aggiunto un esempio specifico qui faccio applica ok ora questo è il nostro libro guardate o articolo quello che volete gli facciamo fare aggiungi l'ultima rifinitura è un'altra funzione clicco aggiungi rifinitura e quindi adesso lui rifinisce tutto il libro da sentirsi male cioè io non ho non ho scritto una parola ho fatto solo dei comandi lui stesso si autocorregge si autosistema guardate qua che meraviglia puoi aggiungere tutti i capitoli che vuoi da qui quindi anche questa divisione è molto bella da un lato tutti i comandi dall'altro è devastante raga devastante ok devastante 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 la lunghezza livello di lettura l'abbiamo visto aggiungi l'ultima rifinitura puoi anche aggiungere emoji però non secondo me ne mette troppe clicco aggiungi emoji giusto per farvi vedere anche questa funzione magari questa vi può essere utile per magari articoli su internet ma non per libri per post sui social ti mette già tutte le belle e rendere le emoji per rendere diciamo più dinamico il testo allora queste erano le novità di canvas adesso scrivere un libro con CiaGPT è ancora più imbarazzante direi quasi e ti aiuta lui fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale supportatemi stiamo per arrivare ai 20.000 iscritti iscrivetevi commentate e voglio proprio sapere cosa ne pensate e noi io vi do appuntamento al prossimo video vi dico che vi leggo tutti nei commenti tutti i link utili sono in descrizione per i vari approfondimenti che vi ho detto le mie lezioni gratuiti i miei corsi gratuiti anche quelli a pagamento tutti i link sono in descrizione fatemi sapere nei commenti iscrivetevi noi ci vediamo ad un prossimo video ciao